Per te è la fine, Jiren. Non esserne sicuro. Questa non è la mia forma finale. Io sono Jiren Ho. Prova questo. Non male. Beccati questo. Nano. Come tua madre? Ti hai detto? Non riesco a guardarli. Dannazione, quella luce fa da un calore enorme. Che carote. Tu sei così forte. Oh sì. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di The Notorious Luke. Oh merda, non me lo dimenticherò mai!